Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo qui per una nuova puntata del Papido Show, la classifica dei locali più cliccati da voi su www.papido.it. Questa settimana alla posizione numero 10 troviamo il Lamb Light, sabato sera, le mille e una notte. I residenti DJ del sabato saranno infatti Marco Ravelli e Matteo Epis, due degli stori di CDJ più amati del panorama radiofonico italiano. L'ingresso sarà 15 euro uomo e omaggio donna. Alla posizione numero 9 troviamo il Karma, col Saturday Style Intensive. Con le sue 5 salie è in grado di accontentare ogni tipo di capriccio musicale, divertimento e svago, una piccola libertà, una forma di benessere del nostro tempo che l'organizzazione del Borgo e Karma vi offrono. Alla posizione numero 8 troviamo il Luminal, sabato sera con musica revival e commerciale. E' sotto questa grande location che parte l'energia della notte, per farvi ballare e scatenare al ritmo della migliore musica densa e commerciale, suonata per voi dai nostri migliori DJ. L'ingresso sarà 10 euro uomo e omaggio donna. Alla posizione numero 7 l'atmosfera si veste di giallo, troviamo infatti la cena con delitto. Durante la cena con delitto, i commensali saranno divisi per tavoli e formeranno ognuno una squadra investigativa in competizione con tutte le altre per la soluzione del mistero, tra interrogatori e analisi degli indizi che si svolgeranno tra una portata e l'altra. Sarà in grado di scovare l'assassino? Alla posizione numero 5 troviamo l'Arcatraz. Tra il 1997 e il 1998 viene completamente rinnovato, con il preciso e ambizioso obiettivo di creare Ex Novo, uno spazio in grado di soddisfare tutte le necessità legate all'organizzazione di eventi, manifestazioni e performance musicali. Alla posizione numero 4 troviamo il cost, venerdì sera serata chic. Serata con cena e dopo cena, dove l'ambiente è easy e molto familiare, creato dalle sonorità con musica commerciale a 360 gradi, si mescola al puro divertimento delle notti milanesi. Alla posizione numero 3 troviamo lo Shanghai Café. È lo storico locale milanese che da oltre 14 anni offre una valida alternativa alla classica discoteca. È il primo locale a proporre un nuovo concetto di serata basata sulla degustazione di molteplici piatti della migliore tradizione italiana, abbinati alle sonorità di ottima musica suonata dal vivo. Alla posizione numero 2 troviamo il lunedì notte dell'All Fashion Café. Nasce nel 1995 con l'intenzione di essere una serata per addetti ai lavori. Un punto di incontro per tutti coloro che operano nel settore dell'intrattenimento notturno, che hanno libero proprio il lunedì notte. E siamo arrivati alla posizione numero 1 dove troviamo il Day Club con International Glam Night. Il giovedì sera, famoso anche a Londra, New York, Parigi e Berlino, ritrovo fisso degli studenti Erasmus internazionali e degli Atenei milanesi, giovani rampolli, modelli e modelle, ma anche di personaggi del mondo dello spettacolo e DJ di grido che animano Milano fino all'alba. Questa era la classifica della settimana, per maggiori informazioni cliccate su www.papidu.it. Ciao ciao!